CSZ vuol dire Comitati Soci di Zona e siamo un gruppo di soci volontari COP. Siamo cinque soci a Zonzo, ma per una buona causa, anzi per tante buone cause. Ci organizziamo sul territorio e lavoriamo insieme a COP per realizzare iniziative culturali. Progetti sociali e solidali di interesse per le nostre comunità. Organizziamo incontri di formazione per coltivare responsabilità e legalità. Campagne Bersa fa guardare l'ambiente e vivere in un mondo più sostenibile. Supportiamo campagne di sensibilizzazione contro la violenza di genere e l'eguaglianza. E ci impegniamo perché crediamo nella cooperazione e nella generazione di comunità. Grazie a tutti.